silenzio allora ecco all'Upaese teniamo un prete che dice messa e mo tenemo pure in avvocatessa che per Beatrice sia un punto di partenza un applauso per la laurea in giurisprudenza a Maria Rita e a Righetto li salutiamo con tanto affetto bravo allora noi oggi con i nostri amici di Girgenti suggeriamo un patto ringraziamo con armonia il nostro amico Righetto e altrettanto saluto sua moglie Maria Rita e le lascio un fior di margherita viva Righetto e viva il carnevale e tanti auguri al nostro amico Pasquale ecco quando va a caccia Righetto voglio lasciare altre 100 potele da sparare a posto